Per rispondere alle preoccupazioni della piazza dopo l'addio del capo dell'area tecnica Eduardo Massia, questa mattina l'AD dello Spezia Andrea Gazzola ha tenuto una conferenza stampa nella quale ha fatto il punto della situazione riferendosi logicamente a quello che può essere il mercato da qui alla fine e quelle che sono le prospettive della società e della squadra per quanto riguarda il prossimo campionato. Capisco che il momento era anche, come ho detto prima, un pochino magari delicato perché comunque nel periodo che si va tra fine luglio e primi di agosto siamo un po' nel pieno delle attività però è successo quindi ne abbiamo preso atto e andiamo avanti ma non ci sono timori particolari come ho detto prima, sta sempre ottemperato con largo anticipo i propri impegni quindi è giusto che ci siano degli equilibri da rispettare quindi come ripeto i numeri ad oggi dello Spezia sono numeri molto importanti quindi va valutato tutto lo scenario anche in termini di calcio mercato senza perdere di vista la competitività della Rosa quindi questo è l'obiettivo. Giustamente può succedere che ci siano operazioni di mercato su un giocatore in uscita e deve essere colmata con operazione d'entrata da parte nostra che garantisca la competitività e magari ci dia un beneficio economico per abbassare e ottenere degli equilibri diversi. Alla base di quelle che sono state le scelte sia per quanto riguarda il mercato di gennaio della scorsa stagione sia per quello che riguarda questo mercato estivo c'è la sintonia dell'area tecnica con il mister. Sicuramente perché l'allenatore oltre ad averlo conosciuto sul campo questa stagione è un elemento centrale. Il parere dell'allenatore è il parere primario che deve essere ovviamente gestito e rendere partecipi anche delle decisioni che possono essere sul tavolo da parte della società. Infine la situazione stadio con le fondazioni della curva ferrovia per quanto riguarda la copertura che sono in via di ultimazione. Completato il lavoro di fondazione perché comunque verranno coperti e protetti ovviamente gli elementi che devono essere nascosti temporaneamente fino a ottobre quando arriveranno, anzi ai primi di settembre probabilmente arriveranno le colonne per essere montate dietro la struttura per poi invece a ottobre come sappiamo chiudere per permettere il montaggio della struttura di copertura vera e propria che sarà l'elemento più importante e delicato della situazione. Grazie a tutti.